ok continuiamo questa lunga carrellata su javascript siamo già arrivati incredibilmente dopo un'ora e mezza agli array allora array in javascript il concetto di array lo conoscete in javascript questi array sono ricchi di funzionalità ci sono vari metodi che potete usare sugli array così come in python ma di nuovo è una pratica di programmazione che vi sconsigliamo gli elementi di un array possono anche essere di tipo diverso quindi potete avere array che contengono stringhe e numeri tutti insieme appassionatamente per creare un array come in python si usano le parentesi quadre e c'è questa proprietà length che è una proprietà non una funzione vedete non ha le parentesi tonde con cui potete sempre accedere alla lunghezza di un array in python usate la funzione length qui c'è questa proprietà invece direttamente sull'array vediamo se riusciamo a fare questo esempio allora supponiamo definiamo un array quindi let my array uguale poi parentesi quadre così sterei definendo un array vuoto ci metto qualche numero separato da virgola così come in python ok questo è il mio array si chiama in questo modo per saperne la lunghezza posso usare la proprietà length quindi console.log di nuovo console.log è una funzione che possiamo usare per stampare sulla console del browser my array punto length ok vedete senza parentesi tonde è una proprietà di array e si ci si accede a questa proprietà con punto il nome della proprietà vediamo un po questo è sempre relativo a prima eseguo il codice e vediamo che l'output qui è 5 javascript tutor mi fa anche vedere che adesso ho un array in memoria con un riferimento che è il nome della variabile e qui sopra c'è l'output della console.log che è 5 la lunghezza di questo di questo array quando si parla di array dobbiamo sempre distinguere tra i metodi che modificano direttamente l'array ce ne sono alcuni quindi si dice in place e metodi che invece non modificano l'array originale ma ne ritornano uno nuovo ovviamente in questo secondo caso dobbiamo salvarci questo nuovo array in una variabile ovviamente come possiamo creare un nuovo array abbiamo diverse possibilità una l'abbiamo già vista e questo è questo di utilizzare le parentesi quadre quindi let v uguale parentesi quadre senza niente dentro sto creando l'array duoto con l'ent uguale a zero qui un array di tre elementi qui un array con elementi di tipo diverso posso anche creare però questa funzione associata alla classe array di javascript array punto ov ok sono equivalenti questi due metodi in una uso una una funzione quindi ho queste parentesi tonde nell'altro uso le parentesi quadre per definire direttamente l'array ok ma sono pressoché equivalenti la numerazione come in python come in c parte da zero quindi l'elemento a posizione 0 qui l'elemento a posizione 0 qui è l'uno poi abbiamo il 2 che in realtà a posizione 1 e il 3 che a posizione 2 quindi partiamo da zero e non provate ovviamente ad accedere a elementi che non ci sono ok quindi se qui provate ad accedere all'elemento a posizione 3 andrete incontro ad un'eccezione ma questo mi sembra abbastanza ovvio come possiamo aggiungere elementi ad un array possiamo fare una cosa del genere cioè specificare direttamente la posizione in cui vogliamo aggiungere l'elemento e la proprietà l'ent si aggiusta diciamo sì questa è una bella domanda il vostro compagno chiede se si può come in python accedere agli elementi in modo posizionale ma a partire dal fondo con un indice negativo sinceramente non mi ricordo proviamolo quindi possiamo avere il nostro array come prima se vogliamo accedere in modo posizionale standard my array e indichiamo l'indice la posizione ad esempio my array di 1 vogliamo accedere a posizione 1 che sarà presumibilmente il 4 e infatti va bene vediamo se riusciamo andare all'indietro proviamo con meno 1 ad esempio direi di no direi di no mi restituisce undefined ok sto cercando di accedere a un elemento che in realtà non c'è quindi a differenza di python questo non possiamo farlo in javascript vedete come questi tool tipo javascript tutor sono molto utili quando non siete sicuri di una cosa potete provarla al volo dicevamo aggiungere elementi posso fare così e in automatico la proprietà lente si aggiusta in automatico qui partivamo da un array vuoto poi a posizione 0 ci mettiamo a a posizione 1 ci mettiamo 8 e la lente in automatico passa da 0 a 2 altrimenti possiamo anche usare il metodo push il metodo push aggiunge alla fine dell'array ovviamente quindi questi due sono equivalenti questi due blocchi ma qui usiamo la funzione push il metodo push associato all'array quindi se vogliamo push aggiunge al fondo se vogliamo aggiungere in testa possiamo usare il metodo unshift ok quindi per ricapitolare questa slide ricapitola come possiamo aggiungere e togliere elementi da un array la push aggiunge al fondo quindi push v.push x aggiunge il valore x a v al fondo v.unshift x aggiunge lo stesso valore x all'inizio spostando tutto il resto in avanti viceversa se vogliamo prendere un elemento possiamo prendere l'ultimo con pop possiamo prendere il primo con shift quindi prendiamo il primo e tutto si sposta a sinistra ok ho lanciato la video lezione sulla registrazione fatemi controllare copiare array questo dovreste anche già averlo visto direi in python qui faccio una cosa del genere definisco un array vuoto ok prendiamo il laser pointer v uguale array vuoto poi metto a posizione 0 il carattere A a posizione 1 il carattere 8 e poi vorrei creare una copia di questo array per qualunque motivo una copia che posso poi modificare allora dico ok let alias uguale v questa variabile che chiamo alias uguale v e poi dico ok modifichiamo il primo anzi il secondo elemento di questa copia mettiamoci 5 ovviamente già riportato nella slide quindi non sarete sorpresi ma se io stampo poi alla fine di questo programma l'array originale v e la copia che in realtà non è una copia alias vediamo che la console punto log ci stampa esattamente lo stesso risultato perché? esatto abbiamo copiato semplicemente solo il riferimento facendo questa roba qui abbiamo adesso due riferimenti alias e v che puntano allo stesso array quindi se modifico alias modifico anche v ok? c'è un unico elemento in memoria questo è chiaro? molto importante non provate a copiare array in questo modo perché non state effettuando una vera copia del contenuto dell'array ma solo una copia dei riferimenti come facciamo a recuperarci una vera copia? dobbiamo usare qualche altro metodo ad esempio il metodo from di nuovo della classe array quindi posso dire copy let copy che a questo punto sarà una vera copia dell'array uguale array.from e tra parentesi tonde v quindi l'array di partenza from v vogliamo una copia a questo punto vedete che copy questo è un output preso da javascript tutor direi copy punta ad un nuovo oggetto mentre alias puntava a quello originale adesso tutte le modifiche che faccio su copy si riflettono effettivamente sulla copia lasciando intatto l'altro oggetto occhio che array.from crea una cosiddetta shallow copy quindi se voi avete degli array che contengono degli oggetti questi oggetti non vengono copiati ok? quindi occhio se volete una vera copia in profondità dovete a sua volta copiare anche gli oggetti contenuti ma se stiamo parlando di array che contengono numeri, stringhe, eccetera ci basta questo array.from di nuovo come iteriamo sugli array di solito con il for of come abbiamo visto prima quindi for element facciamo l'esempio ma dovrebbe essere abbastanza chiaro torniamo qua edit come posso iterare su questo array magari per stamparne i valori uno ad uno for let elemento of non in of my array console.log elemento ok? questo è il primo modo di iterare su un array vedete stampiamo il contenuto una riga per volta un elemento per volta l'altro modo ovviamente è utilizzare il ciclo for tradizionale quindi basandoci sull'accesso posizionale così come fareste in c quindi for let i uguale a 0 i minore di my array punto length i più più a questo punto scorrete non i valori ma le posizioni e quindi dovete poi andare a recuperare i vari elementi utilizzando quell'indice che state scorrendo my array di i questo è equivalente a quello di prima di solito si preferisce il metodo di prima che è più esplicativo e vi richiede meno parole probabilmente ok? ma il risultato l'output è lo stesso di nuovo poi ci sono tutti questi metodi più legati alla programmazione funzionale per scorrere oggetti iterabili che però di nuovo non credo vedremo in questo corso dicevamo che gli array sono ricchi di funzionalità e già vi offrono diversi metodi per poter essere modificati occhio sempre a questa distinzione alcuni metodi modificano direttamente l'array originale quindi in place altri invece ritornano un nuovo array senza modificare l'array originale vabbè anche qui non possiamo vederli tutti nel dettaglio se vi serve una particolare funzionalità vi serve invertire un array andate a cercare sulla documentazione di javascript andate o banalmente sul web come invertire un array in javascript e sicuramente troverete il metodo reverse per esempio che fa la trasposizione degli elementi di un array in place quindi modifica direttamente l'array originale abbiamo la sort che ordina l'array di nuovo in place lo slice per estrarre il metodo slice per estrarre sottoparti di un array quindi vedete questo metodo punto slice accetta due parametri un indice di partenza una posizione di partenza e una posizione di fine e vi ritorna un nuovo array che contiene esattamente la sottoparte diciamo dell'array originale da start a end ok? il metodo splice invece lavora in place è utilizzato quando volete rimuovere degli elementi da un array oppure sostituirli con un altro valore quindi può essere utilizzato quando avete bisogno di rimuovere elementi da un array index of associato ad un array quindi array punto index of tra parentesi l'elemento che cercate vi ritorna la posizione dell'elemento che state cercando se c'è ovviamente quindi è un modo per controllare se un array include un determinato elemento tipo se vogliamo controllare se il nostro array contiene il valore 2 ad esempio noi sappiamo che abbiamo la possibilità di utilizzare questo metodo index of se noi proviamo a stampare console.log myarray punto index of 2 ad esempio vediamo che questa cosa qui ci stampa effettivamente la posizione del 2 che qua coincide anche col numero stesso ma è solo una casualità però vedete ci restituisce un numero la posizione dell'elemento che stiamo cercando nell'array se noi proviamo a cercare un elemento che non c'è 23 ad esempio questo ci restituisce meno 1 ok? quindi un modo per controllare se l'array contiene o non contiene un elemento è usare questo metodo index of quindi banalmente all'interno di una if ad esempio if myarray punto index of del numero che sto cercando diverso da meno 1 magari con il doppio uguale riesco a controllare se il 23 c'è e quindi farò qualcosa oppure se non c'è e quindi farò qualcos'altro ok? c'è anche il metodo includes che è simile almeno potete usarlo per uno scopo simile quindi anche qui array punto includes il valore da ricercare come argomento cerca il valore all'interno dell'array ritornando vero o falso quindi è un modo diverso di arrivare allo stesso obiettivo questo questo va beh se siete interessati direi che potete guardarvelo sulle slide ma non è una cosa fondamentale per i nostri scopi anche lo spread operator in realtà possiamo farne a meno ma cerchiamo di vedere come funziona spread operator è formato da questi tre puntini uno di fila all'altro e può essere usato per espandere un oggetto iterabile nelle sue sottoparti ad esempio in questo caso qui abbiamo vedete un let quindi una definizione di una variabile in realtà cerchiamo di definire due cose x e poi questa cosa strana qui tre puntini y e poi diciamo uguale a questa array qui questa sintassi cosa significa? Significa che noi andiamo a prendere il primo valore e lo mettiamo in x e poi facciamo lo spread di quello che rimane ok quindi due tre quattro e andiamo a collassare il tutto dentro y può essere utile a seconda dei casi ma ovviamente possiamo anche farne farne a meno lo spread operator è anche usato per copiare array abbiamo visto prima che possiamo usare il metodo from quindi potete usare sempre quello ma questo array punto from può essere emulato con l'operatore spread in questo modo qui quindi avete un un array di partenza a che volete copiare e ne fate lo spread in una copia in un array b è un idioma abbastanza frequente in javascript quindi se vedete qualcosa del genere semplicemente il programmatore voleva fare una copia dell'array ok stringhe sequenze di caratteri direi così come in python le stringhe sono immutabili cosa vuol dire immutabili come dice la parola stessa non si possono modificare quindi se definisco una stringa in cui sbaglio una lettera non posso accedere in modo posizionale a quella lettera e provare a cambiarla perché ricevo un'eccezione l'unico modo è ridefinire la stringa ricreare la stringa da zero vabbè la length della stringa è il numero di caratteri mi sembra ovvio partiamo sempre da zero così come gli array così come in python non abbiamo un tipo speciale per il singolo carattere cosa che invece c'è in c ma il singolo carattere è una stringa e possiamo usare apici singoli e apici doppi l'importante è essere coerenti se inizio una stringa con l'apice singolo la chiudo con l'apice singolo e viceversa le operazioni sulle stringhe proprio perché le stringhe sono immutabili ritornano sempre una nuova una nuova stringa che appunto non possono essere modificate ovviamente ai singoli caratteri ci posso accedere ma solo in lettura quindi s di tre sto provando accedere al carattere a posizione tre della stringa s l'operatore più come in python fa la concatenazione ok la mettiamo insieme e di nuovo c'è questa proprietà length così come sugli array che ci restituisce il numero di caratteri di nuovo è una proprietà e quindi non abbiamo le parentesi tonde ma è la stessa cosa degli array l'abbiamo già visto di nuovo avete a disposizione tanti metodi sulle stringhe che potete consultare dalla documentazione online non possiamo vederli tutti index.of funziona ovviamente anche sulle stringhe e anche l'includes quindi se volete controllare se un dato carattere è presente in una stringa avete gli stessi metodi che avete per gli array e poi avete tanti tanti altri metodi tipo substring per estrarre una sottostringa dalla lista to lowercase to uppercase per trasformare una stringa tutta in maiuscolo tutta in minuscolo e di nuovo anche qui no qui ritorniamo sempre una nuova stringa scusate stavo per dire una cosa errata mentre per gli array abbiamo la possibilità di avere metodi che lavorano in place o metodi che ritornano un nuovo array qui questi metodi ritornano sempre una nuova stringa perché la stringa non si può modificare in place e quindi qui dobbiamo sempre salvarci il risultato in una nuova variabile ad esempio se abbiamo la necessità di trasformare una stringa tutta in minuscolo supponiamo di avere mystring una variabile hello in maiuscolo la vogliamo trasformare tutta in minuscolo mystring punto to lower non mi ricordo fatemi controllare sì to lowercase ok questa roba qui non funziona applicata a mystring ok non va a modificare mystring ma vi ritorna una nuova stringa e quindi io ovviamente me la devo salvare in una nuova variabile ad esempio let mystring ups lower ok se poi la vado a stampare ok 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 e lancio il codice vedete l'output è hello tutto in minuscolo ma di nuovo se provo a stampare mystring anche se io ci ho applicato questo metodo la mystring originale rimarrà sempre la stessa vediamo se è vero infatti ok quindi non modifica in place proprio perché non può perché le stringhe sono immutabili va bene c'è anche questa possibilità di definire le stringhe con il back tick ok vedete qui scusate non sto usando l'apice singolo ma è il back tick se le definisco così ho anche la possibilità di andare ad inserire direttamente nelle stringhe i valori contenuti in una variabile di nuovo non è una una cosa strettamente necessaria ma potreste trovarvi di fronte a codice scritto in questo modo ad esempio supponiamo di avere una variabile una stringa name che contiene bill e poi una stringa una variabile greeting che contiene questa roba qui hello e poi dollaro tra parentesi graffe il nome di una variabile con questa sintassi qui semplicemente andiamo a prendere il contenuto di name e andiamo a metterlo dentro la stringa greeting in sostanza se poi proviamo a stampare greeting il risultato sarà hello bill ok possiamo usare questi placeholder che vediamoli così riferendoci a delle variabili esterne a partire all'interno della della stringa ed è utile per formattare le stringhe quando dovete stampare dei messaggi quando questi messaggi si basano su delle variabili che avete nel vostro codice è un modo utile per evitare di fare mille concatenazioni di stringhe quindi in questo caso era facile bastava fare greeting più name ma se questo messaggio è composto da più parti poi avreste mille più uno di fila all'altro mille concatenazioni invece questo è un modo un po' più pulito di concatenare ecco diciamo così dei messaggi domande fino a qui ci rimangono tre concetti importanti per oggi oggetti direi funzioni e come gestire le date partiamo dagli oggetti vabbè a differenza di altri linguaggi di programmazione come Java che però probabilmente non conoscete ancora gli oggetti possono esistere anche senza classi e quindi gli oggetti sono creati direttamente nel codice senza istanziare senza creare prima una classe come in linguaggi di programmazione orientati ad oggetti tradizionali in JavaScript poi gli oggetti sono dinamici e questo significa che potete aggiungere modificare eliminare proprietà su questi oggetti in modo dinamico in ogni momento e potete anche aggiungere ridefinire cancellare metodi associati a questi oggetti in ogni momento ok in JavaScript non c'è un metodo di controllo degli accessi ai metodi di questi oggetti e tutto è sempre public ovviamente se non avete mai visto Java magari è un po' difficile capire questi concetti ma in sostanza quando un oggetto tutti i suoi metodi tutte le sue proprietà sono public significa che possono essere qualunque programmatore può farci accesso a partire da qualunque posizione del codice senza particolari restrizioni e va bene una definizione generica generale di oggetti in JavaScript è un oggetto è un set una collection non ordinare di proprietà ogni proprietà ha un nome la cosiddetta chiave è un valore e poi potete accedere a queste proprietà a questi metodi attraverso il nome di queste proprietà ad esempio qui nel blocco creiamo un oggetto point let point uguale parentesi graffe per creare gli oggetti che di nuovo possiamo vedere in modo simile a un dizionario in python abbiamo la proprietà x a cui è associato il valore 2 e la proprietà y a cui è associato il valore 5 ok un altro oggetto un libro in questo caso abbiamo la proprietà autore la proprietà titolo la proprietà for e la proprietà pages vedete anche qui come sono visualizzate in memoria d'accordo poi ovviamente queste sono proprietà nulla vieta di avere nome due punti una funzione ovviamente quindi un metodo in questo caso invece siamo più allineati con un dizionario python i nomi delle proprietà sono delle stringhe anche se le potete scrivere senza gli apici d'accordo in ogni caso author title sono stringhe anche se non mettete gli apici devono ovviamente essere univoche all'interno di un oggetto non potete avere due chiavi author in book ovviamente e sono create quando l'oggetto è inizializzato i valori invece di solito sono valori javascript numeri stringhe sono salvati all'interno dell'oggetto possono anche essere array o addirittura altri oggetti e come dicevo prima possono anche essere funzioni i cosiddetti metodi ok ad esempio il punto length di un array sicuramente sarà un riferimento ad una funzione che calcola la length dell'array no internamente come accediamo alle varie proprietà in due modi o col punto oppure con le parentesi quadre un po' come fare un accesso posizionale ad esempio qui abbiamo questo oggetto book l'oggetto di prima che ha una serie di proprietà possiamo accedere a una singola proprietà in questo caso al valore contenuto in questa proprietà ad esempio tramite l'annotazione col punto qui stiamo definendo una variabile person che conterrà l'autore del libro quindi libro book punto il nome della proprietà vedete author e il risultato sarà che person conterrà Enrico ma possiamo usare anche l'annotazione con le parentesi quadre name in questo caso conterrà lo stesso valore di person solamente qui dimostra come accedere in modo diverso vedete che se usiamo le parentesi quadre dobbiamo però specificare la chiave tra apici ok la chiave è sempre una stringa ma col punto possiamo evitare i doppi apici o i singoli apici qui in realtà in questa annotazione dobbiamo metterli ok gli apici sono necessari anche nella definizione quando vogliamo avere un nome di una proprietà che ha uno spazio ok quindi quando abbiamo la necessità di avere una proprietà come chapter pages che ha uno spazio in mezzo non possiamo evitare i doppi apici o i singoli apici ok mentre pages for title le singole parole possiamo decidere se mettere o non mettere gli apici e qui ovviamente vi fa vedere anche come modificare i valori di una proprietà sempre con le stesse notazioni ad esempio se dico book.title uguale una stringa sto sovrascrivendo il titolo che era learning.js con advanced.js ok stessa cosa uso la notazione al contrario book di pages con le parentesi graffe uguale 340 sto sovrascrivendo la property pages dell'oggetto originale ok va bene questo l'abbiamo già detto gli oggetti sono anche si possono anche vedere come degli array associativi quindi di nuovo l'accesso con le parentesi quadre può sembrare a prima vista un accesso posizionale ma come indice in realtà utilizziamo una stringa che è il nome della proprietà quindi un po' come i dizionari python abbiamo questi tipi di array associativi e se noi proviamo a impostare come in questo caso una proprietà che non esiste nell'oggetto originale quello che stiamo facendo è la creiamo dinamicamente ok quindi supponiamo di avere il mio oggetto utente ad esempio che è un array associativo dove ho la proprietà anni 30 e nome Alberto ok punto e virgola virgola non mi ricordo mai faccio sempre confusione virgola ok un oggetto con due proprietà anni e nome se io faccio una cosa del genere user punto cognome uguale il mio cognome mettiamoci anche i punti e virgola come buona prassi questo non mi dà errore anche se sto cercando di accedere a una proprietà che in realtà nel mio oggetto non c'è giusto semplicemente questa proprietà viene creata e se io poi stampo il mio utente andiamo a vedere cosa succede ma vedete al mio utente viene aggiunta una nuova proprietà cognome ok quindi questo è un modo anche di aggiungere proprietà dinamicamente ad un oggetto di nuovo posso accederci così ops o posso accederci così ok è equivalente qui come vedete non ci ho messo gli apici li posso mettere se voglio non cambia niente sempre stringhe sono ok fa lo stesso sono obbligato a metterli se voglio una chiave che il nome di una chiave che abbia uno spazio in mezzo che ne so titolo di studio punti phd questo non funziona mi dà errore perché la mia chiave ha degli spazi no e non posso neanche ovviamente fare una cosa del genere console.log user.titolo di studio perché javascript non è più in grado di interpretare dove inizia e dove finisce il nome della chiave quindi quando ho dei nomi composti con dello spazio sono obbligato a usare gli apici quindi la notazione con le parentesi quadre ok vediamo un po' se tutto funziona direi di sì torniamo là questo l'abbiamo detto ok occhio questa cosa di poter usare o non usare gli apici può anche essere fonte di problemi nel senso che queste due cose qui che vedete sulla destra book title con title scritto tra apici e book di title senza gli apici sono in realtà due cose diverse no perché qui stiamo cercando di accedere alla proprietà che si chiama title qui se usiamo anche le parentesi quadre senza gli apici questo title viene interpretato ovviamente come una variabile ok quindi non è la stringa title ma è una variabile title che dovrebbe essere definita nel vostro codice per poter essere utilizzata però sono due cose diverse quindi o usate il punto o i doppi apici però bisogna capire bene quello che si sta facendo se una proprietà non è definita e ci prova ad accedere ad esempio prova ad accedere alla proprietà author ma questa proprietà non c'è nell'oggetto quello che ricevo indietro è il valore undefined d'accordo? ad esempio leviamo il mio cognome ok quindi ora il mio cognome non c'è più se io provo a stampare il mio cognome che è una proprietà che non c'è attualmente nell'oggetto quello che ricevo è undefined ok perché questa chiave questa proprietà non c'è nel mio oggetto quindi di solito il pattern qual è? prima di accedere ad una proprietà per poterci fare delle elaborazioni provo a controllare se c'è nell'oggetto e qual è il modo per farlo? è un modo è utilizzare questa cosa per cui il valore è undefined è falsi in un contesto booleano ok quindi se io semplicemente faccio un controllo su questo quindi se io mi chiedo if user di cognome automaticamente sono in grado di sapere se questa proprietà c'è o non c'è perché se non c'è questa roba qui ritorna undefined e undefined è falsi e quindi andrò a finire nella else e potrò fare scrivere del codice nel caso in cui questo valore non ci sia magari aggiungendolo ok se invece effettivamente c'è questa proprietà allora questa valutazione non sarà più falsi ma sarà trutti e potrò ad esempio stampare il mio cognome ok e qui magari stampo un messaggio semplicemente di test quindi adesso se eseguo questo codice non stamperò più undefined ma aggiungerò il cognome direi e stamperò cognome aggiunto ok quindi testando in questo modo riesco a capire se una data proprietà è presente o no all'interno dell'array dell'oggetto scusate l'abbiamo già accennato in precedenza abbiamo anche un ciclo for particolare for in per iterare sulle proprietà incluse in un oggetto quindi nel primo blocco qui vedete è l'esempio di prima itero su questo oggetto che ha due proprietà x y e se stampo a ottengo semplicemente il nome delle proprietà però questo for in è anche utile se poi voglio stampare tutti i valori contenuti in queste proprietà e lo posso fare ad esempio in modo conciso in questo modo con la sintassi che abbiamo visto prima qui vedete scorro le mie proprietà che sono presenti in book quindi author pages e chapter pages e uso questo nome delle proprietà che ad ogni giro mi viene messo in questa variabile prop per accedere al valore quindi riesco a stampare sia il nome della chiave che il nome della proprietà che il valore con questa sintassi molto molto concisa questo è l'output quindi stampo author quindi dollaro prop uguale il valore dollaro l'oggetto e faccio l'accesso con il nome della proprietà ho anche alcuni metodi per estrarmi se mi servono in un array tutti i nomi delle proprietà funzione metodo keys quindi se ho un mio oggetto e voglio per qualche strano motivo un elenco di tutte le proprietà contenute in questo oggetto posso usare il metodo keys della classe object object.keys di un determinato oggetto ad esempio user che cosa fa? mi restituisce un array con tutte le proprietà con i nomi delle proprietà quindi questa roba qui stampa ah scusate ho sbagliato scrivere console mi restituisce vedete un array in cui ho le mie varie proprietà anni nome e titolo di studio se mi serve posso usarlo copiare oggetti beh qui siamo più o meno nel caso di prima anche se poi abbiamo uno strumento diverso per effettuare veramente la copia questo no questa non è una vera copia copiamo solo il riferimento quindi di nuovo abbiamo due riferimenti che si riferiscono allo stesso oggetto se vogliamo copiare veramente un oggetto possiamo usare il metodo assign della classe sempre object attenzione qui il metodo assign può essere usato in vari modi in questo caso stiamo dicendo che noi vogliamo una copia di questo oggetto che poi ci salveremo nella variabile book3 book3 quindi diciamo object.assign e come parametri abbiamo due cose come secondo parametro l'oggetto di cui vogliamo fare la copia e come primo parametro l'oggetto in cui vogliamo copiare in realtà qui stiamo mettendo un oggetto vuoto perché noi vogliamo fare una copia quindi vogliamo partire da un oggetto vuoto e riempirlo con tutti i valori di book quindi vogliamo partiamo da un oggetto vuoto in questo oggetto vuoto ci mettiamo book e poi lo restituiamo al chiamante e quindi noi riusciamo a salvarci questa copia in book3 quindi come funziona questa assign assegna tutte le proprietà dell'oggetto sorgente all'oggetto target il target può essere un nuovo oggetto quando vogliamo una nuova copia quindi oggetto vuoto poi verrà restituito e noi possiamo salvarcelo in new object ma il target può anche essere un oggetto esistente quindi cosa possiamo fare noi potenzialmente possiamo avere qui nel target un oggetto che esiste e possiamo estenderlo con tutte le proprietà di un altro oggetto in sostanza dopo la modifica il target object viene ritornato anche in questo caso una shallow copy quindi se abbiamo oggetti che contengono altri oggetti gli oggetti contenuti non vengono copiati quindi se volete una copia in profondità dovete copiare anche gli oggetti contenuti quindi dicevo oltre che creare delle copie potete anche estendere degli oggetti esistenti ad esempio qui abbiamo un oggetto book ok noi possiamo assegnare a questo oggetto book vedete che il primo parametro non è più un oggetto vuoto ma è l'oggetto book possiamo estendere questo oggetto con le proprietà di un altro oggetto in questo caso un oggetto creato al volo che contiene una singola proprietà js e poi ritorniamo l'oggetto modificato e possiamo salvarcelo in un'altra variabile in sostanza cosa fa questo blocco di codice vedete aggiunge il titolo sia a book ovviamente che a book 2 che sono semplicemente due riferimenti allo stesso oggetto però vedete che abbiamo esteso l'oggetto originale con le proprietà di un altro oggetto in questo caso molto semplice creato al volo con una singola proprietà possiamo ancora addirittura fare di più possiamo crearci una copia estendendo al volo un oggetto già esistente vedete a differenza di prima dove c'era il mio oggetto esistente come primo parametro quindi due parametri qui abbiamo un oggetto vuoto come primo parametro l'oggetto esistente di cui vogliamo fare una copia e un altro oggetto che vogliamo aggiungere a quello su cui vogliamo fare la copia in sostanza questo è l'output è difficile spiegarlo ma visualmente si capisce il mio oggetto book in questo caso rimarrà lo stesso ma io riceverò una copia che comprende sia l'oggetto book che la proprietà aggiuntiva che ho definito qui al volo possiamo usare l'operatore in prima vi ho fatto vedere un modo per controllare se un oggetto contiene una data proprietà cercando di accedere a quella proprietà e controllando se è undefined o no possiamo anche usare l'operatore in che ci ritorna vero se la proprietà è inclusa nell'oggetto oppure no quindi ad esempio qui abbiamo l'oggetto book con due proprietà e se provo a chiedermi author in book l'output è sicuramente true perché c'è la proprietà author ma se io poi la cancello e questo è un modo per farvi vedere come potete cancellare una proprietà con la keyword delete author in book restituisce false ok comunque in generale potete usare l'operatore in per controllare se una proprietà è presente in un oggetto oppure no non usatelo però negli array con gli array non funziona quindi non è come in python che potete chiedervi if valore in array non funziona se volete cercare un valore all'interno di un array abbiamo visto prima usate index of oppure includes ok va bene come creare oggetti li possiamo creare al volo con le parentesi graffe di solito si fa così potete anche creare un oggetto vuoto e poi modificarlo potete anche usare il metodo create della classe object ma di nuovo i metodi che vi consigliamo sono i primi due ok funzioni conoscete cosa sono le funzioni immagino quindi un modo che abbiamo per raggruppare del codice e poterlo invocare più volte durante l'esecuzione del programma potenzialmente e le funzioni sono uno degli elementi fondamentali di javascript e delimitano un blocco di codice con uno scope privato abbiamo visto prima il concetto di scope così come in python le funzioni stesse sono degli oggetti quindi possono essere assegnate a una variabile possono essere passate come valore a un'altra funzione e possono anche essere ritornate da una funzione quindi potete avere funzioni che ritornano funzioni abbiamo tre modi di definire funzioni in javascript il primo è classico simile al c parolina chiave function nome della funzione i parametri tra parentesi e poi all'interno il corpo all'interno delle parentesi di graph quindi qui ad esempio c'è questo esempio di questa funzione che calcola x per x direi ok quindi vedete c'è la keyword function con il parametro e poi questa funzione dopo essere stata definita può essere invocata tramite il suo nome quindi qui calcolo 4 alla seconda parametri separati da una virgola nel prototipo della funzione possiamo anche avere così come in python dei default value quindi in questo caso la funzione ha un parametro a e un parametro b che però ha un valore di default 1 quindi se qualcuno invoca questa funzione con un singolo parametro di conseguenza il secondo b varrà varrà 1 valore di default i parametri sono passati per valore va bene e dovreste sempre controllare se questi parametri sono stati passati oppure no ad esempio in questo caso stiamo cercando di capire se l'utente ci ha passato veramente il parametro p altrimenti lo associamo al default value e questa è una sintassi più concisa per fare per fare la stessa cosa cerchiamo di sbrigarci un po' se no non finiamo possiamo avere anche un numero variabile di parametri con l'operatore che è simile allo spread operator che abbiamo visto prima questi tre puntini significano che questa funzione potenzialmente accetta un numero infinito di parametri e tolto i primi due che andranno a infinire in par 1 e par 2 tutti gli altri verranno raggruppati in un array chiamato in questo caso r ok ad esempio vedete che questa funzione sum all prende un parametro iniziale e poi potenzialmente una serie infinita di di altri parametri e io la posso invocare in questo modo no dove lo 0 andrà a finire nel parametro initial val e tutti gli altri parametri 2 4 5 finiranno in un array chiamato r e poi su questo array ovviamente posso fare tutte le mie operazioni dicevamo però che questo è il modo classico di definire funzioni ma ne esistono altri e direi che questo è il più popolare ok il 2 il 2 a associamo la funzione ad una variabile proprio per questo motivo per cui le funzioni sono sono degli oggetti cosicché noi possiamo poi utilizzare il nome della variabile per per invocare la nostra funzione sono equivalenti come modo di scrivere le funzioni però direi che nella community di java questo è sicuramente il più popolare ok evitiamo anche di dare un nome esplicito alla alla funzione ok direi che possiamo andare avanti se siete interessati a più dettagli su questi modi di definire le funzioni potete fare riferimento alle slide c'è anche un terzo modo direi quarto modo a questo punto di definire funzioni che sono le cosiddette error function sfruttano questa sintassi un po' particolare sono direi al 90% equivalenti agli altri modi di definire le funzioni hanno qualche comportamento diverso ma di nuovo non le useremo in questo corso però sappiate se vedete delle funzioni scritte in questo modo sono le cosiddette error function esplorerete questo modo di definire funzioni direi in modo consistente in web application 1 se mai lo seguirete nella laurea magistrale ok ovviamente come in python le funzioni possono ritornare dei valori e di default c'è il return value della funzione undefined quindi scusate se non ritornate un valore esplicitamente di default la funzione ritorna undefined usate la keyword return per ritornare un valore ovviamente e direi che possiamo cercare di vedere brevemente l'ultimo argomento di oggi l'ultimo tassello che ci serve per concludere questa lunghissima e me ne scuso introduzione a javascript ma necessaria che è il concetto di date ed è un concetto importante perché sicuramente avrete delle date nei vostri progetti ce le abbiamo nel social network che stiamo costruendo ogni post ha una data associata ci sarà probabilmente nel progettino d'esame e quindi dobbiamo avere un modo semplice ed efficiente di gestire le date in javascript allora javascript ci offre già questo oggetto date che è già presente nella libreria standard di javascript e questo oggetto date che cosa fa in sostanza salva l'istante di tempo in millisecondi a partire dal unix epoch quindi dal primo gennaio 1970 quindi se voi definite una data in questo modo senza passare nessun parametro questa funzione date semplicemente state definendo la data corrente con questo riferimento numero di millisecondi a partire dal primo gennaio 1970 ok qual è il problema con questo modo di gestire le date con la libreria javascript standard è che bisogna fare attenzione con le time zones quindi con con i fusi orari cioè questa l'oggetto date non gestisce in automatico queste cose e quindi il rischio di utilizzare date è che poi tutto il vostro sistema tutto il vostro sito web funziona solo nella time zone dell'utente dell'utente specifico quindi se questo sito viene se un utente fa accesso a questo sito dall'America ad esempio la gestione delle date è tutta sballata perché è basata sulla time zone qui corrente in Italia ok e quindi tipicamente anche se si può fare non si gestiscono date in questo modo in javascript anche perché il confronto tra date è difficile con questo date object incluso nella libreria standard e quindi si fa uso di librerie aggiuntive che semplificano un po' la gestione delle date qui sono riportate un insieme di librerie tutte valide direi per gestire date in javascript noi utilizzeremo questa qui dayjs e lì c'è il sito web da cui potete anche scaricarla come si importa una libreria in javascript è semplicemente caricando il file javascript della libreria nel nostro sito web ad esempio abbiamo detto all'inizio di questa lezione abbiamo la possibilità di avere più di un tag script nei nostri file quindi ad esempio per importare dayjs e poi utilizzarlo apriamo il sito web abbiamo due possibilità questo è il sito andiamo nella documentazione installazione noi vogliamo installarla sul browser abbiamo due possibilità o ci scarichiamo la libreria che è essenzialmente un file javascript la includiamo nel nostro progetto nella nostra cartella e la importiamo specificando il path name del file che scarichiamo questa è la prima opportunità oppure direttamente usiamo quella che si chiama la content delivery network cioè al posto di scaricarci in locale il file della libreria lo scarichiamo direttamente dal web specificando in questo caso questo url qui al posto di un file in locale sul nostro computer ovviamente quello che dobbiamo fare è includere questa libreria se la vogliamo utilizzare prima del nostro file ipotetico app.js ovviamente quindi nel nostro esempio di prima che abbiamo fatto vedere all'inizio prima del nostro file dove abbiamo il nostro codice javascript importiamo sempre con defer se vogliamo importarlo nel led importiamo la libreria che vogliamo utilizzare a questo punto la libreria importata la possiamo liberamente usare nel nostro file app.js ok questa libreria è abbastanza leggera ma permette di fare cose anche complicate funziona sia in no.js che nel browser noi la useremo nel browser e soprattutto ci semplifica la vita con tutta questa gestione dei fuso orari eccetera nelle slide di nuovo e sulla documentazione che trovate sul sito della libreria potete esplorare i vari metodi che vi mette a disposizione dei j.js ad esempio se vogliamo la data di oggi in questo preciso momento possiamo utilizzare questa funzione qui qui stiamo definendo una variabile now net now uguale day j.js ci dà la data di oggi in questo momento ma possiamo definire date specificando tramite una stringa la data stessa ok quindi qui è il 27 dicembre 2019 in un preciso momento istante di tempo e ovviamente ci sono diversi formati che potete utilizzare in queste stringhe per definire delle date potete anche creare una data in day j.js a partire da una data creata con l'oggetto date quello incluso nella libreria standard vedete qui avete un new date che è automaticamente convertito in un day j.js ok quindi è anche comodo questa modalità e poi oltre a creare date avete tutti dei metodi che vi permettono di formattare in modo decente le vostre date per poter essere stampate a schermo quindi con il format potete stampare le vostre date come preferite no questa è la versione standard se dite una data fatta in day j.js punto format vi stampa questa roba qui ma voi potete formattare la stampa di nuovo mettendo come parametro una stringa che esemplifica il formato con cui stampare ad esempio qui voglio stampare la data con l'anno direi y y y y un trattino il mese mm spazio ond e poi due d che stanno a significare il il giorno direi e quindi quello che stampate è esattamente quello che gli dite nel formato ovviamente vi invito a guardare la documentazione per capire cosa potete scrivere qui nel formato non potete scrivere qualunque lettera dovete rendervi conto che la y grande significa anno eccetera va bene l'altra cosa molto utile che è molto difficile con l'oggetto date è quella relativa alla manipolazione e confronto di date quindi con questa libreria potete facilmente ad esempio aggiungere qualcosa alla data ad esempio qui sto creando una nuova data che è il 25 gennaio 2019 e poi in cascata ci aggiungo un giorno quindi passerò al 26 gennaio ovviamente in automatico il day.js gestisce il fatto magari di passare a un nuovo mese ad esempio poi ci sottraggo un anno quindi passo al 2018 poi ci setto un anno quindi lo sovrascrivo non ha senso questa riga di codice però ci sovrascrivo 2009 e poi la stampo il risultato è domenica 25 gennaio 2009 ok ovviamente non hanno senso queste cose messe in cascata ma servono solo a mostrarvi che potete facilmente manipolare le date e avete tutti questi metodi ad esempio is before is after per confrontare due date e questo confronto viene fatto ovviamente tenendo conto del fuso orario della time zone cosa che non viene fatta con l'oggetto date originale sì dovrebbe stampare 26 gennaio vediamo un po' aggiungiamo uno ai giorni quindi passiamo al 26 gennaio togliamo un anno forse dovuto al fatto che l'anno era bisestile non lo so secondo me c'è qualcosa se noi togliamo un anno però magari bisognerebbe controllare magari è un errore del commento è più probabile sia un errore del commento possiamo anche provarlo se volete non riesco a copiarlo quindi scriverlo manualmente potete provarlo a casa se volete credo sia un errore nel commento comunque avete tutti questi metodi che vi semplificano un po' la vita oltre alla libreria potete installare dei plug-in della libreria che aggiungono delle funzionalità in più ad AJS non credo saranno utili in questi in questo corso e siamo arrivati alla fine ce l'abbiamo fatta abbiamo coperto questa introduzione veramente noiosa almeno dal mio punto di vista non so dal vostro a JavaScript era necessaria dalla prossima volta utilizzerete queste cose che avete visto per aggiungere dei comportamenti dinamici ai vostri al vostro sito web grazie per l'attenzione e ci vediamo direi in laboratorio grazie per l'attenzione